Buongiorno, buon 15 agosto, buon feragosto, quindi benvenuti al primo appuntamento con l'informazione sulla 7 che inizia come di consueto con la rassegna stampa, la lettura dei giornali, andremo a vedere quali sono gli argomenti di maggior rilievo che oggi i quotidiani in edicola prima della pausa ferragostana trattano con maggiore attenzione. Insomma, iniziamo col dire che chi immaginava un momento di tregua nell'ambito del mondo politico proprio in occasione della ricorrenza di ferragosto è rimasto sicuramente disilluso perché i fronti sui quali gli ex alleati di governo continuano a scontrarsi aumentano. Ce n'è un altro, quello sui migranti, un caso scaturito dalla decisione tribunale amministrativo regionale del Lazio di consentire a Open Arms, l'imbarcazione della ONG spagnola che aveva presentato un ricorso proprio alla Tar di entrare nelle acque italiane. Ebbene, cosa è successo? Open Arms si sta dirigendo verso Lampedusa, il ministro dell'interno Matteo Salvini ha naturalmente confermato la propria linea dura firmando un altro decreto di divieto, decreto che non è stato controfirmato dalla ministra Trenta, la ministra Pentastellata, la ministra della difesa che ha autorizzato, ha ordinato, anzi per meglio dire a due navi militari di scortare l'Open Arms. Quindi un altro versante sicuramente incandescente, in precedenza c'era stata anche la lettera del premier Conte allo stesso Salvini dove invitava il ministro dell'interno a consentire lo sbarco dei 32 minorenni a bordo, lettera che è stata rispedita all'ammittente e anzi nel contempo lo stesso Salvini ha confermato, tra le tante cose che hanno animato la scena politica ieri, ha confermato che il 20 di agosto in Senato confermerà ulteriormente la sfiducia proprio al premier Giuseppe Conte. Ma ieri è stato anche il giorno dell'anniversario, il primo anniversario del crollo del Ponte Morandi, un anno fa la sciagura che funestò Genova, l'Italia intera con 43 vittime, bene una giornata che si è svolta tra commozione e dolore ma anche rabbia, c'è stato un momento di tensione all'ingresso, all'arrivo per la funzione religiosa dei vertici di autostrade che sono indagati nell'inchiesta appunto per il crollo del Ponte Morandi e bene i familiari delle vittime hanno chiesto a viva voce proprio alle forze politiche presenti, c'era il premier Conte ma soprattutto il Presidente della Repubblica Mattarella, hanno chiesto chiaramente, direttamente, senza mezze parole che appunto i rappresentanti di autostrade si allontanassero, addirittura arrivando a pronunciare una frase piuttosto categorica, o noi o loro. Per fortuna insomma la situazione almeno sotto questo punto di vista si è tranquillizzata con appunto i rappresentanti di autostrade che hanno lasciato Genova. Allora questa la prolusione per introdurre quelli che saranno poi gli argomenti che troveremo sui giornali, cominciamo come di consueto dal Corriere della Sera che apre con una foto di Mattarella, ecco qui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che abbraccia uno dei parenti delle vittime, delle 43 vittime appunto del crollo del viadotto Morandi. Genova vuole giustizia, applausi a Mattarella, ecco qui il pezzo di spalla un anno dopo di Gian Antonio Stella, mi devi costruire due ali grandi così, volo alto e vado a trovare mio papà. Il nonno di Cristian, 4 anni, lo sa, è impossibile fare al bambino quel dono sognato, almeno nel giorno del silenzio e del dolore ne ricordo del disastro di Genova, però i due galli del pollaio giallo-verde un regalo avrebbero potuto farlo davvero a tutti, tacere per un giorno, uno solo. Ma che questo l'incipit del commento di Gian Antonio Stella che insomma stigmatizza il fatto che anche in una giornata dedicata alla commemorazione al ricordo al dolore dei familiari delle vittime, insomma si sia continuati a polemizzare a distanza appunto tra i rappresentanti dei due partiti fino a qualche giorno fa alleati di governo. Il caso dei migranti, i migranti il TAR riapre il caso, 30 li soccorre, nuovo stop di Salvini che insiste, il 20 sfiducio Conte, l'ira del Premier che scrive al Viminale, dovete salvare i bambini, la difesa invia due navi. E' questo il casus belli nel vero senso della parola che ha animato la giornata di ieri, un ulteriore motivo di polemica e di tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle. Il TAR del Lazio ha sospeso il divieto di ingresso della nave ONG Open Arms nelle acque italiane, lo ha annunciato la stessa ONG spagnola che da 19 giorni è ferma in mare con 150 migranti a bordo. Alla nave era stato imposto l'alta l'ingresso in Italia a parte di Salvini sulla base del decreto sicurezza bis. La nave nella notte ha ripreso quindi la navigazione verso Lampedusa, ma ha riaperto lo scontro nel governo. Salvini ha ribadito il no all'ingresso mentre la Ministra della Difesa, 30, ha deciso di soccorrere i migranti mandando due navi appunto a scortare l'imbarcazione Open Arms. Ci fermiamo per qualche istante, c'è la pubblicità e poi immediatamente dopo ritorniamo per proseguire la lettura dei giornali di oggi ne dico. Di nuovo buongiorno, seconda parte della rasegna stampa che riprendiamo con la prima pagina della Repubblica, il fronte del porto. Questo è il titolo scelto dalla Repubblica che ricorda il titolo di un film molto famoso negli anni 50. La crisi finisce in mare, 5 stelle sfidano Salvini, navi militari mandate dalla Ministra 30 a scortare i migranti della Open Arms. Sentenza del Tarda, via libera all'ONG che fa rotta su Lampedusa, il leader leghista non li farò sbarcare. Genova un anno dopo, gelo nel governo, allontanati manager di autostrade. E qui vediamo due foto emblematiche che fotografano la situazione che si è vissuta ieri a Genova, la grande emozione con il presidente Mattarella che abbraccia la nonna di Andrea Cerulli, il portuale morto mentre andava a lavoro a Voltri. E poi l'indifferenza, i due ex alleati di governo, eccoli qua nella foto, Salvini e Di Maio, che era stato previsto che fossero seduti uno accanto all'altro e c'è un posto vuoto invece a dividerli. Insomma, un po' la fotografia, ognuno si volta all'altra parte rispetto all'interlocutore, un po' la fotografia che la situazione è ormai andata insomma per quanto riguarda la coalizione di governo giallo-verde. Repubblica fa il punto su quello che è accaduto in relazione proprio alla questione dei migranti, ricorda anche quello che invece si è verificato a Genova. La sentenza del Tar sospende il divieto di ingresso nelle acque italiane dell'Oper Arms che fa rotta su Lampedusa. Salvini non ci sta, annuncia che non consentirà lo sbarco. Gelo a Genova tra i membri del governo Di Maio e Salvini, previsti seduti uno accanto all'altro e poi separati. I familiari delle vittime chiedono al presidente Conte di allontanare i manager di autostrade dalla cerimonia di commemorazione. Una coltellata ritrovarli qui. Vi segnalo sempre da Repubblica l'analisi di Massimo Giannini. Eccola qui, di spalla. Andiamo a leggere l'attacco. Se ancora ce ne fosse bisogno, la vicenda Open Arms, scrive Giannini, è un altro dramma umanitario che conferma l'ennesima farsa italiana. Dopo aver riaperto la crisi più pazza del mondo dall'arenile festoso di Milano Marittima, Salvini non solo non si dimette e non ritira i suoi ministri, ma continua ad agire come plenipotenziario unico di un governo che esiste in diritto, ma non c'è più di fatto. Sconfitto in Parlamento, cerca una rivincita sul terreno che gli è più congeniale e a spese delle sue vittime preferite, i migranti disperati, gli ultimi del pianeta. Conte e Trenta lo contraddicono, confermando che per ora la frattura è insanabile. Ma come si esce da questa vergogna nazionale? Baciare il rospo sembra il destino della sinistra italiana. Votare la fiducia a un Papa straniero scendere a patti col diavolo per senso di responsabilità. E poi naturalmente il commento prosegue all'interno, si fa riferimento ovviamente alla presunta possibile alleanza che di fatto si è già verificata durante l'Assemblea del Senato per definire la calendarizzazione delle comunicazioni del Premier Spiduciato Conte tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Ci siamo spostati sulla stampa, eccola qui la stampa, la prima pagina del quotidiano torinese. Si sblocca la vicenda migranti, giudici, eccesso di potere, travisamento dei fatti. Una fotografia abbastanza inquietante che fotografa la situazione che si vive a bordo con i 147 migranti che da due settimane sono a bordo dell'Open Arts. Daltarskiaff a Salvini, Open Arts a Lampedusa, Conte ordina giù i minori. Il Vice Premier non cede, faremo ricorso. Il Premier sei irresponsabile. Insomma, le battute tra le due parti si susseguono e le tensioni rimangono altissime. Di spalla la stampa ci propone, scusate, questa è colpa mia, ci propone un reportage su quella che è una situazione che, insomma, si sta verificando ad Hong Kong, nella trincea con i ragazzi di Hong Kong, la protesta che va avanti da parecchio tempo, la protesta su una legge che consentirebbe l'estradizione in Cina per alcuni reati e che viene contestata ad Hong Kong. Abbiamo sbagliato martedì sera, non dovevamo reagire. Quell'uomo era un infiltrato, sarebbe bastato allontanarlo invece di passare noi per quelli violenti. Chris ha 17 anni, la mascherina e gli occhiali Google sul volto stanco era in prima linea quando due sere fa la polizia ha fatto irruzione nell'aeroporto di Hong Kong per sgomberare i giovani che lo occupavano da giorni e mettere in salvo dalle percosse un cronista del giornale filo cinese Global Times. Lo scalo è stato riaperto, ma i ragazzi, che dall'inizio di giugno scuotono questa città-stato da 7 milioni di abitanti, sono ancora qui per spiegare agli stranieri la loro estraneità allo stop dello scalo, chiuso dalla direzione dei voli e non dai sit-in. Situazione piuttosto incandescente che continua a creare veramente situazioni di grande tensione, di grande violenza soprattutto. Migranti, siamo adesso sulla prima pagina del messaggero. Movimento 5 Stelle smonta la linea dura. Open Arms, il TAR annulla il divieto di sbarco, Conte 30 favorevoli, ma Salvini insorge. Il Carroccio, il 20, sfiducia al Premier. Lavori in corso per un governo PD, 5 Stelle, DEM divisi. Mentre Salvini conferma la sfiducia a Conte, il 20 agosto, Movimento 5 Stelle punta la resa dei conti sul caso Open Arms e si prepara a smontare la linea dura sui migranti. Il TAR ha accolto il ricorso della nave ONG, Conte 30 favorevoli allo sbarco, il leader leghista si oppone. Su fronte politico, Movimento 5 Stelle è pronto a un governo bis. Zingaretti chiede però a Di Maio di farsi da parte. Renzi contrario. Insomma, proseguono le trattative appunto per la creazione di una nuova alleanza. Dal messaggero andiamo a prendere sotto la testata Supercoppa UEFA la prima volta di un arbitro donna promossa a Stefani. Stefani Frappari ieri ha arbitrato e insomma tra l'unanime consenso degli addetti ai lavori, dei tecnici. La partita che ha assegnato la Supercoppa europea al Liverpool, ai calci di rigore contro il Chelsea, è stato un arbitraggio assolutamente perfetto, senza sbavature. Insomma si apre sicuramente un nuovo orizzonte anche per gli arbitri in versione femminile. Stefani Frappari si è dimostrata assolutamente all'altezza dei suoi colleghi maschi più celebrati. Un altro motivo di scontro e qui rimaniamo sul messaggero perché reddito, pochi controlli e boom di irregolari, scontro Lega-Grillini. Se ce ne fosse stato bisogno, insomma, si è individuato un altro argomento, un altro elemento sul quale polemizzare, senza requisiti in 3.000 su 4.500 verifiche, ma gli assegni erogati sono oltre 900.000. Pochi controlli e boom di irregolari. Nel mirino il reddito di cittadinanza, scontro Lega-Grillini dall'Inps fanno sapere che dall'inizio dell'anno la Guardia di Finanza ha scoperto 3.000 furbetti che hanno ottenuto il reddito, ma nonostante questo continuavano a lavorare in nero. I controlli sarebbero poco meno di 5.000 a fronte di 922.487 sussidi erogati dall'Istituto Previdenziale. Lasciamo il messaggero ora e spostiamoci sul Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere l'apertura del Fatto Quotidiano. Eccola qui, una foto tragicomica, porta e porta in faccia da Mattarella e Conte, incartato. Salvini a Genova difende Atlantia, mentre qui raffigurato in versione Pinocchio tra i due carabinieri, mentre Quirinale l'accusa di sete di profitti. Il Premier lo strapazza per far sbarcare i bimbi da Open Arms e Giorgetti è infuriato. Scusate di spalla, rimaniamo sul Fatto Quotidiano. Elezioni a ottobre oppure governo, Movimento 5 Stelle centrosinistra. Un anno dopo Morandi applausi ai due presidenti e la gente caccia i capi di Atlantia. Intanto anche un allarme lanciato dal Fatto Quotidiano, ma lo troveremo anche sugli altri giornali. C'è un problema a recessione, Germania hanno zero, l'industria si è bloccata, l'Italia ora rischia. Lasciamo il Fatto Quotidiano, diamo un'occhiata anche alla pagina, la prima pagina del giornale. Ecco qui la prima pagina del quotidiano diretto da Alessandro Sallustri. Tragico media di Stato, comica finale, porti riaperti agli immigrati. Salvini se la prende con Conte, la Lega si rimange il reddito di cittadinanza irregolare il 70%. Il governo spila Genova facendo finta di non essere spaccato. Andiamo a vedere l'attacco dell'articolo di fondo del direttore Alessandro Sallustri. Più che assiste a una sfida politica ci sembra di vedere una riedizione dell'aereo più pazzo del mondo. Il celebre film tragicomico di inizio anni Ottanta in cui si raccontavano le avventure paradossali e surreali dei passeggeri a bordo di un aereo condotto da un pilota che aveva paura di volare. Risata e paura come oggi sull'aereo Italia. Piccola carellata. Il Senato è stato riaperto per discutere di fatto sulla bronzatura dei suoi membri, mentre Banca Italia rendeva noto che il debito pubblico ha sfondato la quota record di 2.386 miliardi, più 21 sul mese precedente. Conte e Salvini scenano l'ennesima sceneggiata sull'ingresso in porto di una nave carica di immigrati che da giorni staziona a largo di Lampedusa. Nelle ore in cui la Germania entra ufficialmente in recessione e fa crollare le borse, soprattutto quella di Milano, antipasto, di una devastante crisi in arrivo e poi vi invito, naturalmente, se lo vorrete, a proseguire la lettura, ma insomma è abbastanza evidente quello che viene fotografato sul giornale. A proposito di economia, ecco qui andiamo sulla sole 24 ore, Germania e USA, allarme e recessione. Nel PIT tedesco nel secondo trimestre arretra dello 0,1%, pesano dazi e crisi dell'auto. Il Made in Italy teme l'impatto sulle filiere automotive e meccanica. Produzione 1,6% nell'area euro a giugno, male anche la Cina, meno 1,6% nell'area euro a giugno, male anche la Cina ai minimi da 17 anni, una crisi economica naturalmente di portata mondiale che coinvolge la Cina, gli Stati Uniti e la Germania, la cosiddetta locomotiva d'Europa e questo potrebbe avere ripercussioni gravi, le sta già avendo, sull'economia italiana. Andiamo adesso alla la prima pagina di Libero che titola così, quello leghista sembra un tentato, suicidio. Questo è il commento del quotidiano diretto da Vittorio Feltri, fanno solo confusione. Il governo nel limbo, nessuno sa se sia destinato a morire e anche nel carroccio c'è chi ha qualche dubbio. Giusto aprire una crisi senza sapere come sarebbe andato a finire? Punto di domanda. Sondaggio. Gli elettori vogliono votare, solo il 14% approva il partito democratico, Movimento 5 Stelle. E poi all'interno della prima pagina la resistibile ascesa del Conte Rosso, naturalmente il Conte Rosso è Giuseppe Conte, il Premier, Casini è risorto e punta al Quirinale. Di spalla il fondo del direttore Vittorio Feltri che praticamente pubblica oggi una lettera aperta a Matteo Salvini. Caro Salvini ti scrivo per dirti che non ho capito le tue ultime, anche penultime, mosse. Spero che tu me ne possa spiegare il senso. Per oltre un anno hai governato insieme ai Ciula, così li definisce Vittorio Feltri nel Movimento 5 Stelle, con i quali hai pure litigato di brutto, ma tutto sommato sei riuscito a tenere stretta la compagnia del filo di ferro senza subire danni, anzi guadagnando consensi per la Lega. Poi alle europee hai avuto un trionfo e un sacco di gente ti ha implorato. Rompi l'alleanza così si va ad elezioni anticipate e si ridimensionano le pretese scriteriate ai pentastellati, la quale gente però non sa che la politica è connessa all'aritmetica, per cui ignora un fatto. Se tu vinci le europee con largo margine, tuttavia nel Parlamento nazionale è il 17% dei voti, mentre i grillini conservano i 33%, è evidente che il torrone ce l'hanno in mano questi ultimi. Ed è una domanda che molti si pongono sulle tempistiche della crisi avviata con la sfiducia da parte della Lega nei confronti del Premier Conte. Forse sarebbe stato strategicamente addetta dagli analisti politici, dal punto di vista della Lega, avviarla nel momento in cui si celebrava la vittoria roboante alle ultime europee. La prima pagina del manifesto, eccola qui, reddito e grandi opere, la lite infinita, ma il leghista centinaio non esclude una pace con i Cinque Stelle in extremis. Intervista a Ermete Realacci, un accordo si parte dal CRIMA, un'intervista al Presidente onorario di Lega Ambiente. Per quanto riguarda la questione ai migranti, braccio di Ferragosto, il accoglie il ricorso della Open Arms e può entrare in acque italiane. La Ministra 30 invia navi militari per soccorrere i minori a bordo, migranti allo stremo, anche sulla Ocean Viking che lancia un appello. Salvini strilla, poi ripiega sul Consiglio di Stato. Salvini che immediatamente dopo la decisione del TAR ha preannunciato immediatamente il ricorso al Consiglio di Stato. Andiamo a dare un'occhiata al Tempo, eccolo qui, fanno già tornare gli immigrati, scrive il Tempo in prima pagina. È subito restaurazione, il TAR smonta il decreto sicurezza bis e manda il balcone all'NG a Lampedusa. Conte 30 ne approfittano e approvano lo sbarco. Salvini, ecco il programma Renzi-Grillo. Lasciamo anche il tempo, velocemente la prima pagina della verità, un inciucio che assomiglia a un suicidio, dieci ragioni per cui i Cinque Stelle devono dire no al governo senza vergogna, dall'immigrazione a Quattrocento, dalla TAB alle Trivelle fino agli sbancati ai soldi pubblici e ai giornali. Per il Movimento Cinque Stelle l'abbraccio con il partito di Bibiano sarebbe mortale con la beffa di rimettere in sella Renzi e Labboschi. La verità utilizza un termine molto provocatorio ricordando il caso di Bibiano delle adozioni irregolari e chiudiamo velocissimamente. Liverpool un altro trionfo, Chelsea cappa o solo ai rigori, chapeau Madame Frappard, esame superato a pieni voti. Eccola qui la foto della francese Stéphanie Frappard in basso, in calcio alla pagina dedicata alla finale di Supercoppa che come abbiamo detto si è assolutamente ben comportata. Con questo è tutto, ancora uno spazio dedicato alla pubblicità e poi torniamo con la prima edizione del TG La Setta, fra poco.